Il MIUR prevede che le scuole attuali siano delle strutture aperte per la comunità, cioè che ci sono anche opportunità di rigenerazione delle periferie. Le 21 edifici destinati alle scuole primarie di Salerno, solo 8 dovrebbero essere oggetto di interventi, 4 per adeguamento sismico e 4 per quello funzionale. Per gli altri 13, costruiti tra il 1913 e il 1978, non è previsto nulla. È quanto emerge da uno studio fatto dall'architetto Giuseppe Carpentieri, che ha dato lo spunto al consigliere comunale di Salerno di Tutti, Giampaolo Lambiase, per un'interrogazione al sindaco, anche perché, oltre ai 13 istituti che non rientrano fra quelli dove si sono programmati interventi, per gli altri 8 in cui si dovrà intervenire, però... Però i soldi non ci sono, non ci sono, sono stati richiesti, bisogna partecipare a un bando che vede anche altri comuni, comuni capoluogo, capoluogo in gara. Ci sono situazioni con elevato rischio, dice sempre Lambiase, riferendosi ad un istituto in particolare. Ci sono degli edifici, come per esempio quello di Ogliare, che ha dei controlli, dei fessurometri particolari, vicino alle murature, perché ci sono problemi anche per quanto riguarda la tenuta statica di queste strutture. Se l'amministrazione non si dedica al miglioramento degli edifici scolastici, all'istruzione in modo particolare, e quindi se non impegna dei fondi, anche propri, va a finire che noi la competitività che vogliamo per il Sud, soprattutto per le generazioni, non l'avremo mai. Soldi che ci sono, che vengono spesi male, dice sempre il consigliere comunale di Salerno di Tutti. Per esempio, Piazza della Libertà è venuto a costare 70 milioni di euro di soldi pubblici, una piastra di cemento a servizio di un condominio privato. Ci sono moltissime opere incompiute per le quali si sono spesi soldi, il palazzetto dello sport, circa 20 milioni, il cosiddetto polo nautico, capitolo San Matteo, si sono spesi 12 milioni, adesso si cambierà destinazione d'uso. E poi ci sono anche le società miste che sprecano danaro per i servizi che vengono erogati. e tra l'altro abbiamo verificato una cosa particolare che voglio mettere in evidenza. Noi perdiamo dall'accorpamento delle due società, Salerno Energia Vendita con IREN e Salerno Distribuzione con Acquamet, ogni anno un milione di euro di utili che non entrano nelle casse del Comune. Ho fatto presente la cosa, spero che si muova l'assessorato al bilancio, è uno spreco di danaro pubblico e non si capisce per quale ragione abbiamo fatto queste fusioni e questi accorpamenti.